musica ho trovato dei vecchissimi mac e dei computer super strani musica qua in centro si sta un po' annuvolando vabbè anche se piovesse sono le ultime ore quindi non fa niente street food di Vienna abbiamo preso un langos che è una specie di frittella gigantesca è un cartoffel puffer, una specie di tortina di patate, molto buoni, prendeteli se venite questo costa 2 euro, questo costa 2,80, più o meno in tutti i posti proprio ottimo adesso andiamo via perchè sta arrivando la tempesta andiamo in qualche posto chiuso tipo centro commerciale musica 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 ok resoconto della sera questa è stata una giornata più che altro di preparativi perchè oggi dobbiamo andare via e quindi abbiamo girato veramente poco per prenderci le cose da portare a casa quello che ci interessava i cosiddetti souvenir insomma e quindi niente abbiamo fatto il giro di Nashmarkt dei vari posti asiatici che abbiamo già visto questi giorni niente di speciale niente di nuovo adesso aspettiamo un po' perchè non abbiamo più niente da vedere non ce la faremo in tempo e basta fra poco andiamo in stazione così andiamo a prendere il bus che ci riporta a Trieste domani mattina perchè parte alle 10 di sera e arriviamo alle 5 di mattina è finito qui quindi grazie per aver guardato a tutti il viaggio è concluso ci vedremo presto con un nuovo viaggio musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.